Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di San Giorgio in Bosco in visita al Consiglio regionale a Venezia, nella suggestiva cornice di Palazzo Ferrofini. Un'iniziativa promossa dalla vice-sindaca Loretta Frison, che ha accompagnato i colleghi amministratori in erba per far conoscere loro uno dei luoghi principali delle istituzioni del nostro Veneto. Gli studenti infatti hanno potuto continuare il progetto Cittadinanza Attiva, per il quale sono stati eletti riscontrando dal vivo il ruolo della regione e nel contempo hanno potuto visionare le stanze che compongono il palazzo soffermandosi in quella del Consiglio regionale. E dopo una visita alla città, da loro l'augurio a tutti i coetanei per il nuovo anno scolastico. Buon anno scolastico a tutti!